Grazie a tutti. 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 Sì, è stato un giusto! Ha fatto un giusto! Passala! Passa la vai! Vai go! C'è un giusto! 3-0! Allora, 3-0 ora! Let's get the ball moving! Switch this way, take! Listen! Goal! 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 When will you stop that? It's gonna look good in there. Tag us. Yeah! We've got this! Okay! One more goal, we'll do it! Send it! Send it! Send it! We're building up this! You can finish to make it 4-1! Goal! Goal! All right! Here we go again! Goal challenge! Goal! 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 Come, come! Hey, pattenzione! Sì, è stato un po' di sicuro! Sono qui! Sì, è stato un po' di sicuro! Ehi! Ehi! Sì, è stato un po' di sicuro! Da questa parte! Ehi! È stato un po' di sicuro! 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 Grazie a tutti 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 Don't give them the time Yeah? Be tough in every tackle Got some time before they're ready Warm up?